L'aeroporto di Genova in questi anni è cresciuto moltissimo grazie al lavoro di tutte le istituzioni, del nuovo management, direi un risultato ottimamente soddisfacente. Aumentano i passeggeri, siamo i primi per crescita in Italia, aumenta la confertevolezza e l'estetica di questo scalo che è per tutti il primo approccio per coloro che arrivano in aereo rispetto a quello che incontreranno fuori. Vedere un aeroporto bello che ricordi quello che poi si vedrà poco dopo uscendo da qui credo che sia un buon modo per integrare questo scalo con la funzione sempre più importante che deve avere nella nostra città, nella nostra regione. Sì, un primo passo dopo qualche piccolo successo che c'è stato lo scorso anno dove abbiamo vinto il campionato come crescita massima in Italia, ci sono cresciuti più di tutti e adesso vogliamo andare avanti per farlo, diamo servizi sempre più raffinati, stiamo attenti anche a promuovere la Liguria, dobbiamo ringraziare la regione che ha pagato tutto questo allestimento dove il pesto, le acciughe, l'olio di Liguria la fanno da padrone, tutti i finger sono stati illustrati con magnifiche fotografie della Liguria e devo anche dire che come viaggiatore anche io a Roma e a Parigi sono pareti intere di illuminati da dietro magnifici schermi che fanno venire voglia di venire in Liguria.